Battle of the Belts, benvenuti a tutti, l'episodio di quest'oggi è un episodio in cui andiamo a parlare di Battle of the Belts di quanto accaduto nell'irreprensibile scenario di questo speciale voluto tempo fa, perché questo è già il nono, quindi almeno due anni fa voluto due anni fa da TNT che ovviamente questa volta è andato in coda a Collision creando praticamente un blocco da tre ore molto importante e molto grosso in cui abbiamo visto confluire Collision in Battle of the Belts e viceversa un po' come quel momento in cui il fiume e il mare si incontrano e si scambiano un po' di acqua benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, anche oggi sono qui per parlare di Relit oggi sarà l'unico video della giornata e ve lo consegniamo presto la mattina per poter dare il via libera ai commenti sia dell'episodio di Collision che di Battle of the Belts anche nel nostro gruppo Telegram, quindi se volete potrebbe essere interessante far parte del nostro gruppo Telegram, trovate il link in descrizione nella descrizione di questo video così come di tutti gli altri video trovate comunque tutto quello che riguarda il nostro mondo, quindi i nostri social, il modo per contattarci, il libro che abbiamo scritto io e Michele da poter acquistare su Amazon, insomma tantissime cose che potete trovare che ovviamente fanno parte della nostra sfera, del nostro universo di AW Italian Podcast, quindi più volete entrare a far parte di quello che è il nostro mondo, più potete ovviamente usare quei link per insomma addentrarvi e cercare, esplorare, andare all'avventura. Partiamo subito con il titolo tag che viene messo in paglio in questo street fight molto 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 interessante e anche molto molto duro, ci sono tantissimi spot con armi e oggetti perché ovviamente si parte da fuori dal ring, si distrugge anche la macchina di Red Titus il quale poi subisce anche una Judas Effect, insomma tante cose che ci hanno portato a riempire il tempo necessario per cambiare tutto quello che era all'interno dell'arena da Collision a Battle of the Belts e non solo anche per farci vedere un po' di cose, un po' di situazioni, un po' di spot particolari che ovviamente all'interno dell'arena non si sarebbero potuti vedere con armi particolari, con oggetti particolari anche il solito ormai golf cart che viene utilizzato questa volta da Sammy Guevara tutto procede abbastanza bene, soprattutto per chi ama questo genere di match ovviamente c'è di che guardare c'è di che vedere, poi però ci si sposta all'interno dell'arena e una volta dentro l'arena ovviamente diventa un pochino più tradizionale, match arcore all'interno delle mura di un palazzetto e poi ovviamente si va verso gli spot finali, ce n'è uno in particolare che viene falsato da Takeshita, quindi c'è un momento in cui Big Bill sta per eseguire una mossa sui tavoli, su due tavoli che hanno stati appoggiati lì, reverse da parte di Chris Jericho che a sua volta sta per fare del danno ma viene fermato da un colpo di candlestick in testa che viene da parte di Takeshita. Questo colpo ovviamente consente a Big Bill di riprendere insomma quello che è l'avanzare del match e fare una mossa molto pericolosa e forte di grosso impatto proprio su quei tavoli, con l'arbitro che va anche a cercare di capire se va tutto bene, giustamente era tutto a posto, non è successo niente, nessuno si è fatto male. Dall'altra parte invece ci sono Ricky Starks e Sammy Guevara che stanno lottando con Ricky Starks lasciato a terra fisicamente sullo stage ad aspettare un colpo da parte di Sammy Guevara che sale 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 su un'americana, arriva in alto e si lancia. Però non colpisce il suo avversario che viene spostato ovviamente, ancora un altro aiuto da parte della Don Callis Family, da Powerhouse Hobbs e poi Ricky Starks viene fatto appoggiare su Sammy Guevara per il pin vincente ovviamente il mantenimento delle cinture che non era assolutamente lasciato in dubbio e però adesso il dubbio è cosa succederà alla Don Callis Family, cioè chiederanno, dato che hanno dato una mano ai campioni di coppia, chiederanno loro una shot titolata, vorranno una shot titolata o andranno ancora una volta contro Chris Jericho e Sammy Guevara? Insomma qua la situazione è un po' ingarbugliata come piace a noi quelle cose che ovviamente sono aperte a tante situazioni diverse, non vedo l'ora di vedere come andrà sono curiosissimo, sono davvero felice di questo momento anche perché la situazione tag è un po' più in fermento rispetto a quanto è stata prima dell'ultimo pay per view che purtroppo non ha visto le cose andare in un modo molto positivo, anzi purtroppo è andata abbastanza male il periodo tag prima di World's End speriamo che le cose possono migliorare. C'è stato il match femminile, probabilmente un buon match in generale durante la settimana abbiamo visto cose buone femminili, TBS Championship dove Giulia Arte è riuscita a mantenere contro Anna Jay. Il match non è venuto perfetto ma ho visto un buon grado di miglioramento soprattutto considerato il fatto che queste due sono due ragazze original e poco più che rookie quindi giustamente devono lavorare in un certo modo. Poi Giulia Arte ha un buon personaggio, funziona bene, Anna Jay ha tantissime difficoltà nell'eseguire, nel fare le cose correttamente però si sta impegnando, vedo una luce diversa e ha avuto sicuramente dei momenti complicati, l'ha detto anche in un reel proprio in un video che è stato mandato in onda su Instagram da parte della All Elite dove tra l'altro si è messa a piangere ricordando anche Mr. Brody Lee però non solo quello insomma. C'è tanto da migliorare e lei è migliorata, ha avuto un momento difficile, dicevo, lo dice lì però spero che possa prendere la sua strada, che difficilmente si può lasciare andare una ragazza come lei, difficilmente però si può arrivare a migliorare se non si hanno dei match a disposizione. Se riescono a darle un po' di continuità io non disdegnerei per lei nemmeno un passaggio in ring of honor, giusto per approcciarsi a qualche match in più anche in questo 2024, mi auguro per lei che ci sia lo spazio giusto. Julliard continua a lavorare bene, ha lavorato molto bene anche questa volta, ha sottomesso l'avversario, tutto è andato nel verso giusto, non c'è stato il moonsault tanto discusso, non so se per un po' di tempo lo accantonerà, però sta di fatto che è riuscita comunque a portare a casa una buona vittoria, sono molto contento anche del sadismo e di come ha approcciato alcuni aspetti del match che secondo me possono funzionare anche in un'ottica futura. Continuano però i problemi interni nella stable, insomma, che comprende Jeff Jarrett, Jay Little, son Jay Dutt, Karen Jarrett e Satnam Singh. I problemi continuano ormai, si è quasi pronti a lanciare via Jay Little, il quale però insomma viene fermato anche dall'arrivo di Satnam Singh, lui quindi non se ne va, non viene mandato via per ora, però Satnam Singh gli porta dei dolci fatti da sua mamma in India e insomma insiste un po' per farglieli mangiare a Jay Little, tanto da mettergli quasi in bocca il dolce mentre Jay Little non lo voleva in quel momento e si sporca Jay Little e c'è questa incomprensione di lui che si sente pressato da questa cosa ma dall'altra parte è Satnam Singh che dice non ti piacciono i dolci di mia mamma? E quindi insomma sta scherchiolando ancora qualcosa, immagino che questi faranno un match a breve e verrà attaccato Jay Little e probabilmente ci sarà l'aiuto da parte di Mark Briscoe, la vado a fiutare così ma poi ovviamente ne riparleremo a tempo debito se sarà il caso. Match valevoli invece per il titolo international, c'è ovviamente Orange Cassidy, c'è la vittoria di Orange Cassidy, c'è un discreto Preston Vance che fa un incontro interessante contro il suo avversario, giocato molto anche nella parte quella più o meno comedy da parte di Orange Cassidy, in realtà i due secondo me si sono trovati anche abbastanza bene, hanno lavorato bene, avevano il classico condor che ti dorme sulla spalliera del letto e aspetta che tu diventi cadavere per cibarsi di tutti quelli che sono i tuoi resti, perché l'Undisputed Kingdom era lì, era lì proprio attaccata al ring ed è anche intervenuta a un certo punto prendendosi un Orange Cassidy addosso, questo Preston Vance che ha fatto una fallaway slam ad Orange Cassidy facendo strike dell'Undisputed Kingdom, dopo la fine del match, dopo che Orange Cassidy si è mantenuto ancora una volta questo titolo ben legato alla vita, viene fermato Preston Vance colpito, lui è anche usato di assistant, c'è chaos sul ring ma viene solo accerchiato Orange Cassidy, non viene colpito e poi viene salvato dall'arrivo di FTR, Daniel Garcia e Adam Copeland, che arrivano un po' dal nulla, un po' d'emblè, ma credo siano arrivati dopo che tecnicamente era finito Battle of the Belts perché erano già stati fatti i saluti, c'erano già le solite righe sotto, 2024, copyright, queste cose qua, arrivano loro, credo sia stata proprio una cosa post-post-match e post-trasmissione che noi abbiamo visto in parte, vabbè, quelle cose che non servono a nulla e che di solito poi in altri contesti, in altri show diventavano il dark main event per dire, no? Ecco, questo è stato Battle of the Belts, non ci sono stati cambi di titolo, quasi come sempre, e non c'è stato nulla di troppo da segnalare, nulla di che di veramente importante da segnalare, per gli amanti dei match hardcore è venuto, secondo me, piuttosto bene lo street fight, per gli amanti dei match femminili c'è stato qualcosa di interessante nel match femminile? Insomma, siamo tutti abbastanza contenti per come sono andate le cose, speriamo di poterne parlare sempre meglio, anche di questi programmi che sembrano un po' scialbi, che sembrano anche interessare meno per 1500 ragioni e ne abbiamo ben d'onde, speriamo bene per il futuro. Io voglio essere fiducioso perché dal punto di vista del wrestling è andata molto bene anche questa edizione e quindi a me interessa il wrestling, direi che siamo a posto. Fatemi sapere la vostra con i commenti, vi ringrazio se lascerete un like, se deciderete magari di abbonarvi al nostro lavoro, grazie davvero di cuore perché è importante per noi, noi non possiamo far altro che ringraziarvi e io in primi se vi voglio abbracciare tutti quanti perché davvero sono stati i primi 15 giorni incredibili di questo 2024, speriamo di continuare così. Grazie davvero di cuore a tutti, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, noi ci risentiamo, alla prossima.